Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv C'è l'Italia dentro, Presidente, con questo grande gruppo? È realmente solo italiano? Il gruppo è solo italiano, è solo italiano nei soci, che sono solo italiani, nei prodotti, nella compagine societaria, nelle fabbriche, nelle tasse e quindi siamo tre volte italiani. Presidente, la ringrazio per avermi, abbiamo un po' insistito per averla come ospite perché ci piace il modo, non ha perso di vista la produzione, l'agricoltore e questo ci fa veramente piacere perché noi sentiamo in lei la rappresentanza di chi sta nel campo. Nella mia carta di identità c'è professione imprenditore agricolo, che è la base della nostra filiera e poi si diventa anche dirigente se hai il consenso, se ti chiamano, se sei portato a gestire una situazione, ma sei di base un imprenditore agricolo. Noi siamo appunto passati prima del campo, prima di arrivare in stabilimento e vediamo l'evoluzione della tecnologia, l'abbiamo detto l'anno scorso, ogni anno purtroppo o per fortuna le cose cambiano, quest'anno come stanno andando le cose ad inizio raccolta? Le cose stanno andando abbastanza bene, scontiamo un ritardo nel mese di luglio che ci arriva dalla primavera dove i trapianti sono andati un po' a rilento e a fine luglio eravamo in ritardo rispetto all'anno scorso di alcuni punti percentuali, poi però ad inizio agosto nel 2020 sono arrivate tre giorni di pioggia che hanno messo in grave difficoltà la filiera e soprattutto il campo. Invece quest'anno il tempo è buono, sta continuando bene, le produzioni sono buone, molto sane, un grado Brix leggermente superiore rispetto all'anno scorso, in alcuni casi sensibilmente superiore e il grado Brix e il colore soprattutto, colore buono sono sinonimi di grande qualità, il prodotto è sano, servevole, si presta bene sia a fare delle polpe sia a fare delle passate perché buon colore, buon sapore, buon requisito organolettico e quindi sarà una campagna, se continuerà fino alla fine, una campagna buona. Incrociamo le dita, incrociamo le dita come sempre. Amici agricoltori, ma in questi grandi contenitori, in queste cisterne che voi avete all'interno, avete già svuotato tutto oppure? Il mondo del pomodoro è arrivato alla congiuntura, come chiamiamo noi all'inizio della campagna, abbastanza vuoto, frutto di due annate non eccessivamente produttive. C'è stato sicuramente una richiesta da parte del mercato che ha riposizionato offerte e domande nel giusto equilibrio e questo è fondamentale perché per dare reddito ai produttori, alle aziende agricole e a tutta la filiera occorre un giusto equilibrio, non eccessiva produzione perché se si offre di più di quello che il mercato chiede sono problemi. Il Made in Italy all'estero ha tirato, il pomodoro è sicuramente una cultura che fa da locomotiva, da traino, si sposa bene con la pasta e quindi pasta e pomodoro sono due prodotti che tirano la filiera Made in Italy. Le Olimpiadi hanno dato una mano anche al pomodoro? Le Olimpiadi non è che necessariamente hanno dato una mano, però sicuramente il Giappone è un mercato molto importante, è un mercato molto selettivo, che paga molto bene, che pretende una qualità elevata, qualità di prodotto e di processo e per processo si intende tutto, ma che paga bene e allora è il fronte a cui guardiamo con più interesse perché noi non saremo mai competitivi sul primo prezzo, è un mercato che appartiene ai cinese, noi saremo sempre più competitivi sulla qualità del prodotto, dell'immagine e dell'etichetta che rappresenta il cuore e l'anima. Presidente, allora siamo andati avanti, torniamo indietro, o meglio andiamo all'inizio dalla ricerca, no? Prima del seme c'è una ricerca. Assolutamente sì. E questa ricerca voi la fate direttamente partendo appunto dalle sementi. Questa è una novità che sapevamo già l'anno scorso, ma pensavamo forse una novità così, sì, vabbè, un'idea un po'. E invece ci siamo accorti della sedietà e soprattutto del coinvolgimento della ricerca pubblica e privata in maniera veramente straordinaria. E qualcuno mi dice, poi andremo in campo a vedere queste valutazioni, queste prove, che siamo sulla giusta strada per migliorare ancora la qualità di campo. Dunque, noi abbiamo un percorso difficile, Angelini, perché noi dobbiamo migliorare la qualità del prodotto, migliorare la qualità del lavoro in campagna, ottenere un prodotto che ha quei requisiti attesi dal consumatore e dalla trasformazione, ma dobbiamo avere anche un prodotto che oggi risponde a obiettivi e ai criteri di sostenibilità. E di mercato. È chiaro, sostenibilità e mercato. È chiaro quindi che la ricerca si indirizza su varietà produttive, perché le varietà devono produrre. Per avere reddito e avere un equilibrio della filiera bisogna fare produzione, ma bisogna fare una produzione che non abbia eccessive sensibilità e quindi la ricerca è indirizzata verso resistenza a delle malattie, chiamiamolo così in senso lato, che obbligano all'utilizzo di più chimica. Quindi piante più resistenti. Piante più resistenti. Alle malattie. Ma poi dobbiamo anche avere in mente l'elemento idrico, l'acqua, perché noi abbiamo bisogno di caratterizzare le nostre produzioni con meno consumo di acqua. E meno consumo di acqua si fa fondamentalmente con piante meno voraci di acqua, da un lato, e dall'altro con sistemi di distribuzione di acqua, la microirrigazione, che consente di ottenere il medesimo risultato impegnando un 60-70% di acqua in meno. Ecco, questi sono le grandi linee, i grandi obiettivi che in qualche misura la ricerca e l'agronomia convergono insieme per aiutare l'azienda agricola. Quindi noi abbiamo già una semente, possiamo dire, di Conservitalia da consigliare agli agricoltori? Sì, noi abbiamo, la vedremo in campo, noi abbiamo già sviluppato, è chiaro che abbiamo messo la testa fuori da alcuni anni, non abbiamo l'obiettivo a brevissimo perché la ricerca è il frutto di un lavoro metodico, di un impegno. Poi nella vita c'è anche chi estrae il primo biglietto dalla lotteria e gli cambia la vita di colpo. La ricerca non è così, si può avere più o meno fortuna nell'individuazione di una serie di cloni che poi messi in prova si può accelerare anche il percorso, ma i percorsi sono sempre lunghi. Abbiamo già però delle varietà molto importanti che abbiamo già diffuso quest'anno che ci inducono a ben sperare per il futuro nella direzione che le dicevo prima e quindi è anche giusto che un'azienda leader come siamo noi, un'azienda che coniugava la filiera ancora nel vecchio secolo, la natura di prima mano, è giusto che un'azienda come questa abbia tutta la filiera non solo dal campo alla tavola ma ancora prima del campo perché assieme ai nostri produttori vogliamo fare le scelte migliori nel segno della qualità e della sostenibilità economica per il produttore, perché noi siamo ancora fra quelli che dicono che la sostenibilità ambientale va bene se c'è la sostenibilità economica per il produttore. Si può fare comunque. Allora, Presidente, interrompiamo un attimo questa nostra intervista per vedere questa clip che noi abbiamo naturalmente registrato per testimoniare che quello che ci sta dicendo è vero, cioè l'osservazione prima per andare in campo sicuri. Ecco, vediamo. Straordinarie queste prove, noi le stiamo osservando tutti, sono numeri questi? Sì, i numeri rappresentano le varie parcelle, ogni parcella è un ibrido, una selezione diversa di pomodoro prismatico, lungo, ciliegino e anche da mercato fresco. Ecco, vedete, la ricerca parte prima in laboratorio, poi viene trasferita forse nelle serre e poi alla fine in campo le osserviamo queste valietà. Sì, sì, le osserviamo in campo, le valutazioni in campo sono fatte principalmente per vedere la produttività, e questo è importante per il reddito degli agricoltori, e anche la resistenza alle malattie. Anche questa non è secondaria, ma partecipa sempre alla reddittività della coltivazione. Ecco, vengono osservate in questo caso in casa degli agricoltori, negli areali degli agricoltori. Sì, qui siamo nell'azienda Zoffoli, vicino a Capanna Guzzo, che è una frazione in provincia di Cesena, e qui appunto abbiamo fatto queste valutazioni insieme all'agricoltore, ma anche per uso interno nostro, sia di materiale commerciale che anche di nuove introduzioni. Cambiano i territori, quindi cambiano anche le situazioni, quindi è importante questo osservare nelle diverse aree d'Italia. Sì, questo è un campo vetrina che abbiamo utilizzato anche per uso commerciale, con la nostra rete vendita e con tutti i collaboratori che abbiamo delle varie cooperative presenti qui in Emilia-Romagna. Però le prove vengono estese a tutto il territorio nazionale, vengono fatte in Puglia, Toscana, in Emilia-Romagna, chiaramente nel nord del Napoletano, nel Casertano, insomma nelle principali aree produttive. Ecco, l'importanza di realizzare prove dove si produce. Sì, certo, infatti questo è fondamentale anche perché il comportamento di una varietà in un certo areale non è lo stesso poi in un altro, benché nonostante abbia mostrato dei fattori positivi di produttività, di resistenza, in alcune condizioni cambiano completamente e per questo vogliamo vedere l'adattabilità delle nostre varietà in diverse situazioni. Ecco, vedete, noi abbiamo voluto prepararvi anche un tavolo, qui non si mangia comunque, il tavolo lo utilizziamo perché vogliamo farvi vedere un po' le varietà, sono tutte presenti queste varietà in questo campo? Sì, sono presenti in questo campo, qui elencate sono alcune tra le varietà principalmente presenti nel nostro catalogo e anche diffuse. Molte di queste sono coltivate qui in Emilia-Romagna, altre invece sono coltivate al sud, in Puglia e in altre regioni. Ecco, vediamo, possiamo prendere una schetta? Diverse varietà saranno diverse tra loro, no? Hanno sapori... Questa, Shiraz, è una tra le varietà più precoci che abbiamo nella nostra gamma, si sta comportando molto bene qui in Emilia-Romagna, sia a Parma, a Piacenza, così come nel Ferrarese. Come produttività? Produttività per essere una varietà precoce è una tra le produttività più alte, abbiamo media intorno ai 1200 quintali ettero. Si raccoglie in quale periodo? Precoce intendiamo? È intorno al 25 di luglio in Emilia-Romagna. Quelle che stiamo vedendo ora sono raccolte. Però, per esempio, a Caserta, dove usano trappiantare molto precocemente, sono state già raccolte 15 giorni fa, insomma, perché fanno trappianti a fine marzo. Bene, andiamo avanti con le altre varietà per capire il motivo di... non facciamo qualcuno potrebbe dire un po' di confusione con tante varietà. No, beh, la prima che abbiamo visto è una varietà precoce. Cartizze, invece, è una varietà medio-precoce perché la stiamo utilizzando qua e anche in altre regioni d'Italia per la sua resistenza alla peronospora. È un prodotto... Che è un problema non da poco, devo dire. Certo, certo. Poi parleremo anche con il nostro genetista che in laboratorio ci dirà un po' come sono arrivate ad ottenere un prodotto resistente. La peronospora è un po' difficile, ma l'avete già collaudata. Sì, questa è una varietà già presente nel mercato da parecchi anni. Viene utilizzata proprio per la sua resistenza alla peronospora anche nel circuito del biologico. Diciamo che la peronospora è micidiale per il pomodoro e i trattamenti molto spesso vengono fatti perché appunto la peronospora colpisce, diciamo per i non addetti ai lavori che magari può sembrare... Diciamolo per i nostri amici consumatori. Sì, sì, questo è importantissimo perché poi dopo... Non utilizziamo la chimica in poche parole. Sì, sì, no, no, questa è semplicemente genetica... Resistente alle malattie. Resistente alle malattie. Possiamo dichiararlo questo? Sì, sì, certo. È scritto anche sui nostri cataloghi, quindi... Bene, bene, è questo quello che deve fare la ricerca. Poi ne riparleremo. Un'altra varietà invece... Ecco, poi abbiamo... Sono sempre varietà che poi vedremo, vediamo in campo, no? In questa parcella qui. Sì, abbiamo TS500 che è la più diffusa qui in Emilia Romagna, storicamente la prima che abbiamo introdotto e in tutti questi anni, perché ormai sono quasi otto anni, continuo a mantenere degli alti livelli di standard produttivi e di questo siamo molto contenti. Quali devono essere le caratteristiche di un prodotto che poi viene trasformato? Di valore intendo, caratteristiche di valore. Sì, allora... Il colore... Sì, certo. Partiamo dal sapore. Il sapore e questo normalmente viene identificato col brix, che è la presenza di solidi solubili nel liquido del pomodoro, il colore sicuramente e poi dopo, a secondo delle varie trasformazioni, la presenza di fibra, in quanto rende il pomodoro più adatto a fare dei cubettati o delle passate via di cena. Abbiamo altre varietà, vogliamo vederle tutte queste che ha messo su questo tavolo, vogliamo capirle, soprattutto riconoscerle. Ok, poi abbiamo... A me sembrano tutte uguali, dirò la verità. In campo magari poi vedremo le differenze. Aleatico... Siamo già in campo, eh? Sì, sulle parcelle. Aleatico è una varietà anche lei medio precoce, perché la presentiamo? Perché ha anch'esso un'altra resistenza, un patogeno, un fungo particolare che è l'alternaria solani. Anche questo ha creato non pochi problemi. Certo, sì, e forse negli ultimi anni sta diventando sempre più pesante gli attacchi di alternaria rispetto alla peronospora. Ecco, cambiando la resistenza delle piante, poi lo chiederemo anche al nostro genetista, cambiano i sapori? No, no, dipende sempre dalla genetica che c'è dietro. Noi siamo molto attenti su questo e quindi cerchiamo di inserire le resistenze nei vari ibridi, nelle varie tipologie che presentiamo, senza andare a intaccare la produttività, colore, sapore e via dicendo. Quindi sono molti test che devono essere superati prima di essere introdotti nel mercato. Bene, andiamo avanti. Ecco, poi Rulander, sempre nel segmento dei prismatici, dei tondi, lo presentiamo perché è una varietà medio-tardiva, quindi interessante anche per quelli in Emilia Romagna, anch'essa con la resistenza all'alternaria. Abbiamo anche in questo stesso pomodoro, abbiamo resistenza a un virus non presente nel nord Italia che è il tilc, ma la presentiamo per la sua capacità di produrre molto bene in campo. Mi sembra di capire che avete orientato la ricerca, e non è una cosa molto intelligente, orientato la ricerca in base ai territori. Mi sembra di capire che questo è importantissimo. Sì, certo, perché per esempio al nord ci sono certe problematiche, tipo peronospora alternaria, che probabilmente sono più preponderanti e pesanti ai fini produttivi rispetto alle virosi, che si manifestano molto di più al sud. E in questa direzione noi ci siamo orientati. Bene, mi sembra che questo è necessario per il nostro agricoltore. Questa è l'ultima varietà, eh? Sì, questa è lunga. Vediamo qualcuna un po' più lungata, qualcuna più tondo. Questo è un lungo, un pelato come normalmente si usa a dire. Si fanno dei pomodori lunghi anche qui in Emilia Romagna. La presentiamo anche questa perché è un lungo, uno tra i pochi presenti nel panorama italiano, con la resistenza alla peronospora. Quindi adatto sia in convenzionale che in biologico. Bene, mi sembra chiara l'esposizione. Ecco, poi abbiamo anche voluto la trasformazione, perché bisogna vedere poi quando il prodotto viene trasformato. Ecco, quindi ecco perché troviamo su questo tavolo questi vasetti dei campioni, delle campionature. Ecco, ci spieghi perché? Sì, questi sono... Le prove le fate sempre direttamente voi, naturalmente. Facciamo noi e poi utilizziamo, ci avvaliamo anche del laboratorio di Conservitalia. Eh, che non è da poco, anche perché avere una organizzazione così importante, anche per il laboratorio, è fondamentale, perché così avete un po' sotto controllo la parte produttiva, che non è poco. Ed ascoltate, mi sembra di capire con quello che lei mi ha detto, ascoltate gli agricoltori, in base alle esigenze degli agricoltori. Quindi le varietà sono fatte in funzione della resistenza, per utilizzare meno chimica, per essere più sostenibili. È corretto quello che diciamo? Sì, correttissimo, perché con varietà resistenti alla peronospora, all'alternaria, certamente si riducono il numero dei trattamenti in campo. E quindi partiamo da questo, cioè piante più resistenti per offrire al mercato un prodotto, eh, possiamo dire senza residui a volte. Sì, 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 certo. Lo dichiariamo, questo è l'etichetta. Sì. Bene, allora, a noi manca il cuoco. Come mai non avete volato un cuoco? Cioè, un padello, un fornello qui, due spaghetti, perché no? Perché non è ancora ora. Ah, ok, più tardi allora, più tardi queste, perché sai, un buon pomodoro per un buon spaghetti fondamentale. Eh, i nostri amici, qualcuno sorride, ma partiamo da qui, eh, partiamo dal campo, non è che ce la inventiamo. Se è un buon prodotto che mangiamo al ristorante, c'ha quel sapore, quei profumi, è grazie alla nostra bella agricoltura. Qui in campo abbiamo dei ciliegini che sono fantastici per essere fatti... Ecco, però voglio dire che l'abbinamento con la cucina è fondamentale, quindi dobbiamo andare d'accordo con i nostri consumatori, ma anche con i nostri ristoratori che di questo prodotto ne fanno largo uso. Ecco, noi per fortuna vediamo un'automazione straordinaria nel campo, anche perché sappiamo che la raccolta del pomodoro oggi viene fatta con queste grandi macchine, macchine molto importanti, anche macchine che selezionano già dal campo il prodotto. Avete visto quanto scarto viene fatto già dal campo, il prodotto verde rimane sul campo, così in industria abbiamo meno scarto e meno anche gestione di tutto questo prodotto che non andrebbe bene per essere trasformato. Quindi c'è una prima lavorazione raccolta in campo, una prima osservazione della macchina, eh, con queste macchine di ultima generazione, e poi c'è un ulteriore lavaggio, come avete visto in stabilimento, è molto complessa questa filiera del pomodoro. E vorrei però, visto che parliamo di sementi, partire dalla preparazione del terreno e raccolta. Tutto meccanizzato, viene fatta la semina in vivaio e poi successivamente le piantine vengono trapiantate. Perché non semina del seme e facciamo il trapianto? Perché col trapianto si fa un investimento molto più mirato, circa 30-35 mila piante etero, secondo delle varietà, mentre con la semina diretta non si riuscirebbe a controllare questo fattore. Quindi sappiamo cosa trapiantiamo? E poi anche per una questione di costi, perché il seme ha un suo valore e quindi è inutile sprecarlo inutilmente nel terreno. Quindi abbiamo dei vivaisti che fanno questo mestiere, questo lavoro, no? Sì, sì, sì. Quindi arrivano con le piantine direttamente in campo? In campo, forniscono le piantine agli agricoltori, i quali a secondo delle settimane di programmazione trapiantano, questo in accordo con l'industria di trasformazione. Quindi il vivaista, sono tutti vivaisti distribuiti nei diversi territori? Certo, sì. Anche qui in Emilia Romagna ce n'è molti anche di specializzati. Ecco, l'importanza comunque di portare agli agricoltori un prodotto che voi avete la certezza di qualità, di produzione, di colore. Sì, ecco, poi voglio inserire un altro fattore, importante proprio per la raccolta meccanizzata, che i pomodori siano, come si dice, in gergo jointless, cioè che perdano il picciolo. Quindi noi, nella nostra attività di ricerca, di breeding e di selezione, tutte le varietà, per quanto possano essere belle, colorate, produttive, se mantengono il picciolo alla raccolta, vengono scartate. Vengono solo avanzate le varietà che perdono il picciolo, in modo che possano essere meccanizzate e non creare problemi in stabilimento. La macchina, quando lo stacca, lo stacca senza picciolo. Se ci fosse il picciolo, sarebbe un problema. Vedete la ricerca quanto è importante. Questo prodotto siamo riusciti ad ottenerlo partendo dalla ricerca. Non è banale questo aspetto. Ricordatevi che prima di un prodotto c'è la ricerca. E vorrei coinvolgere il nostro genetista, che abbiamo la fortuna e il piacere di averlo in campo. Grazie a voi siamo riusciti ad ottenere un prodotto di questo tipo, ascoltando gli agricoltori. Cosa che molto spesso non si fa. Sicuramente il punto di partenza è sempre la necessità dell'agricoltore di capirne le sue reali esigenze, di quello che gli serve oggi e di quello che gli servirà nei prossimi anni, nel breve periodo e in un tempo anche un po' più lungo. La ricerca ha tempi di realizzazione in agricoltura abbastanza lunghi, per cui bisogna lavorare su più piani. Si parte dal piano attuale nel breve periodo, ma anche in una visione un po' più lunga. Cosa può accelerare questa ricerca? Partendo dal laboratorio. Il nostro strumento di partenza è sempre le metodologie classiche, di incrocio e selezione, utilizzando la variabilità che nel pomodoro, per fortuna la natura è molto ampia e varia. Questo ci facilita senza dubbio il compito nel trovare delle soluzioni possibili. Però affianchiamo a questa metodologia tradizionale tutta una serie di supporti, che sono alcuni supporti legati al DNA, soprattutto alla biologia molecolare, quindi all'individuazione, attraverso delle analisi specifiche, puntiformi, andiamo a rilevare la presenza di geni che conferiscono caratteri mirati, come una resistenza particolare, parlavamo prima, parlavate della peronospora o dell'alternaria, o anche come la resistenza in nematode, alle batteriosi, sono tutti oggi geni conosciuti e che riusciamo a seguire, a tracciare, quindi siamo sicuri nell'importarlo, nel riuscire a rintracciarlo e portarlo con noi in campo. Oltre a questo affianchiamo tutta una serie di analisi che sono invece chimiche, nel senso di andiamo a rilevare la qualità del prodotto finale trasformato, per avere già un'idea di quello che sarà una volta che lo porteremo in fabbrica su grande scala, quindi su piccola scala, come in questo caso, qui abbiamo fatto dei succhi di pomodoro e andiamo a verificarne le qualità organolettiche, il sapore, il gusto, i profumi, ma anche il contenuto zuccherino, l'acidità, che in questo caso è particolarmente importante, che si abbassa, il pH basso, oppure il colore, anche il contenuto in licopene, o la viscosità come il grado Bostwick, quindi tutti questi aspetti ci danno un'indicazione se stiamo facendo dei passi avanti nella qualità e quindi il prossimo, il cubetto o la passata dei prossimi anni sarà di qualità migliore rispetto a quella di oggi. Una ricerca che Terrasid ha voluto sin dall'inizio, non a caso, Terrasid è nata per risolvere dei problemi, prima di tutto agli agricoltori, mantenendo qualità, sapore, mi correga se sbaglio. Sì, corretto. Quando è nata questa, possiamo già definirla, azienda sementiera a tutti gli effetti. Si nasce nel giugno 2009 su un progetto, un'idea di Conservitalia, di integrare completamente la filiera, quindi con una società sementiera, e che nello stesso tempo gli potesse fornire dei prodotti innovativi e migliorativi per le sue trasformazioni. Non è andata un po' in competizione con le grandi multinazionali? Certamente, certamente andiamo in competizione, però tendo a sottolineare questo, che in pochi anni abbiamo fatto dei passi da gigante, abbiamo introdotto una marea di varietà in tutto il territorio nazionale, ma anche all'estero. Lavoriamo anche, abbiamo varietà che vengono utilizzate in California, in tutto il bacino del Mediterraneo. Una ricerca tutta italiana, finalmente! Noi solitamente siamo abituati a sentire royalty, diamo dei soldi alla ricerca straniera, finalmente diamo dei soldi alla ricerca italiana, no? Sì, questo è 100% ricerca italiana. Anche le collaborazioni che abbiamo, molte di queste sono con istituti nazionali, italiani, centri di ricerca, università, progetti che abbiamo avviato in questi anni, così come abbiamo investito milioni di euro nella ricerca. Avendo un gruppo come Conservitalia, probabilmente avete anche le armi, ben, chiamiamole armi, per la difesa intendo, armi per la difesa. Ecco, vorrei tornare dal genetista un attimo. Che tipo di collaborazione c'è, per esempio, con la ricerca pubblica? Abbiamo delle ottime collaborazioni. Già da diversi anni, proprio lo sviluppo di alcune novità avvengono in collaborazione con la ricerca pubblica, abbiamo, sia per quanto riguarda, ad esempio, la resistenza delle virosi, c'è un gruppo italiano con il quale ci troviamo molto bene, ci ha permesso in questi anni di individuare delle fonti di resistenza delle virosi molto interessanti, innovative e presto vedranno anche la luce nelle varietà, nei campi, insomma, diciamo, su larga scala. Un'altra resistenza importante è questa legata all'alternaria. Abbiamo una collaborazione con l'Università di Bologna, quindi qua rimaniamo, diciamo, quasi in casa. Con loro stiamo cercando proprio di arrivare a, abbiamo individuato delle fonti di resistenza ed oggi stiamo arrivando, stiamo cercando di clonare quello che è il gene, quindi cercamo un lavoro di fino, diciamo, e questo è possibile per un'azienda come la nostra, farla soprattutto se abbiamo il supporto da parte di aziende, di istituti di ricerca. Altri istituti di ricerca interessanti sono legati invece alla resistenza ai funghi e a degli istituti di fitopatologia. In Italia abbiamo alcune eccellenze e quindi abbiamo dei buoni legami anche con queste realtà che ci danno un buon supporto. E questo ci piace in modo particolare, avere questa relazione tra pubblico e privato è straordinaria. Quello che non ci riusciva a fare da tempo, voi mi sembra che ci state riuscendo molto bene. Sì, siamo molto orgogliosi di questo, anche perché vediamo che dà i frutti. Sì, risolviamo i problemi, non da poco. Bene, allora io volutamente, signori, ho voluto mettere questa bandierina sullo sfondo, perché sappiate che la nostra ricerca italiana non sta ferma, anzi, avete sentito? I problemi li risolviamo direttamente con il pubblico, il privato, stiamo insieme per dare un valore al nostro prodotto italiano, ma non solo, per dare dignità anche agli agricoltori bisogna che in qualche modo abbiano un prodotto di qualità da produrre nel campo. L'azienda agricolo oggi deve essere ben strutturata, abbastanza strutturata, deve essere molto legata con l'industria che trasforma, facendo perché no anche dei patti seri, concreti, dove l'agricoltore fa dei conti precisi per stare nel campo. Ecco, io vi ringrazio per questa vostra disponibilità, perché ci ha fatto credere un po' di più in questa nostra bella Italia, la ricerca, l'abbiamo visto con le Olimpiadi, no? La nostra bella Italia. Siamo contenti. Stiamo insieme, possiamo dichiararlo questo? Sì, certo. Ecco, stiamo insieme per andare in questo caso al mercato con un prodotto di qualità. Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv www.agrilinea.tv